Come la freccia, tuo simbolo di amicizia, sei passato accanto a noi con amore e gioia. Con semplicità sei entrato nei nostri cuori e vi rimarrai per sempre. È quanto si legge sulla targa installata al mercato di San Lorenzo in memoria di Niccolò Ciatti, accanto al banco dove il ragazzo lavorava prima di essere assassinato da tre giovani nell'estate del 2017, durante un pestaggio in una discoteca all'Ore del Mar in Spagna. Le parole del padre. Siamo convinti che ci arriveremo anche se tempi trannuti. È una giustizia che è il minimo che noi dobbiamo fare per Niccolò. Perché era un ragazzo che aveva un sorriso per tutti, qui al mercato, con i suoi coneggi, con tutte le persone. Era ben voluto da tutti e purtroppo ce l'hanno portato via il 12 agosto, per niente. Senza alcun motivo, senza alcuna motivazione valida. Assolutamente solo perché era forse un gioco per noi. E noi questa giustizia la vogliamo. Aspetteremo ma ci arriveremo. Parole di vicinanza alla famiglia di Niccolò Ciatti sono arrivate dall'amministrazione comunale che intende sollecitare i ministri competenti affinché i responsabili di questa morte siano assicurati alla giustizia.